Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane da oggi, io mieterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranti, seguitemi! Se vi ritroverete soli, a cavalcare su 20 braterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campi elisi e sarete già morti! Fratelli! A mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riechietta nell'eternità. Ti chiamo Massimo Detimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, serbo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Madre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e trova mia vendita. In questa vita o nell'altra, in questa vita o nell'altra, al mio segnale. Grazie a tutti!